Tre formazioni irpine scenderanno in campo quest'oggi per i sedicesimi della Coppa Italia del campionato di promozione. Il Bellizzi di Mr. Angelo Quaglia sfiderà il Sampo Italiano tra le muramiche dello stadio di Altavilla. Appuntamento alle 15.30. Le due formazioni guidano il loro girone di promozione con 11 punti. Cinque compagni proveranno a mettere da subito un'ipoteca sul passaggio del turno. In campo anche la bisaccese di Santo, l'impegnata contro l'apice dell'ex Mirabella Facchino. La sfida verrà disputata all'Ambrosini di Venticano alle 17.30. Il fischio di inizio di Tayuba e compagni proveranno a mettere lo sgambetto ai sanniti. Il staccante ex Città di Avellino in mano calzati proverà a trascinare la squadra di Bisaccia che è reddice dalla sconfitta contro il Gesualdo. L'altro incontro in programma è quello tra il rivoluzionato Città di Avellino guidato da Melchionno e l'Ottaviano. Anche questo match si giocherà alle 15.30. Vedremo che al termine del match si sarà assicurata la partita di andata. Non ci resta che aspettare che le squadre scendano in campo. Grazie a tutti.